Il centro di controllo d'area di Brindisi rischia di chiudere. L'ENAV, società che gestisce il traffico aereo civile, pare intenzionata a spostare a Roma le attività svolte dal centro di Brindisi. Alla base di questa decisione ci sarebbero problemi di natura economica, ma, a detta dei sindacati, tali problemi potrebbero essere risolti mantenendo il controllo dello spazio aereo a Brindisi, nel cui interno figurano 25 tecnici specializzati. Attraverso un comunicato stampa diramato in questi giorni, CGL, Cisle e Will sollevano anche delle problematiche di carattere tecnico. Se venisse a mancare la torre di controllo di Brindisi, infatti, non solo i 25 impiegati sarebbero costretti a trasferirsi, ma avrebbe meno anche una postazione di controllo della sicurezza aerea, che deve garantire la capacità di intervenire efficacemente in tempi ottimali in caso di avarie. Oltre a questo, ci si ritroverebbe a fare un bel passo indietro dal punto di vista tecnologico. A detta della CICI di Brindisi, la situazione tornerebbe ad essere come quella del 1956, epoca storicamente, politicamente e tecnologicamente molto diversa. Tutto ciò sarà discusso nel corso di una conferenza stampa.